buongiorno botico trekking guardate voi direte cosa c'è dentro questo sacco c'è una vipera il mio vicino di casa aveva la vipera e io che sono un cretino io l'ho recuperata l'ho messa nel sacco adesso la porto sul crinale e la mollo sul crinale seconda puntata andiamo a liberarla vediamo un po' perché alla fine gli voglio tanto bene ma non vorrei che poi dopo mi mordesse occio siete pronti eccola qua ecco cosa aveva mangiato che non si muoveva il rospo povero rospo eccola lì c'ha problemi c'ha problemi guardate che bella camera ringraziami stai lì eh ciccia vai vai chissà che cos'è guarda 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 che sono il tuo salvatore eh ci so c'è che rospo che aveva preso incredibile vai bella vai vai ho questo un bel serpente eh ragazzi ecco per faceva quell'odore schifoso perché l'aveva rimesso vediamo un po' se qualcuno la riconosce tanto il rospo è andato bella vigile eh se ne va via ciao bene anche questa fatta mi spiace per il per il rospo morto qui dal botte con trekking e tutto ciao 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 ciao